L'incidente è nella salata del sabato 16 marzo intorno alle 18.30 sulla provinciale 41 che collega l'usilier a Feletto in località Chieria. Una donna ha perso il controllo della Fiat Panda che stava guidando e che è andata a sbattere prima contro il parapetto del ponte su un lato della carreggiata per poi fermare la soccorsa dall'altro lato di fronte al secondo parapetto. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia di Ivrea. La donna ha subito soccorsa e è stata trasportata all'ospedale di Quarnier. Fortunatamente ha riportato solo feriti e lievi, accertamente in corso sulla dinamica. Fortunatamente ha riportato solo feriti e lievi, accertamente in corso. Fortunatamente ha riportato solo feriti e lievi. Fortunatamente ha riportato solo feriti e lievi.